Ciao a tutti e benvenuti in questo post partita di Catanzaro Bari, un derby del sud che inizia in realtà con un'atmosfera del nord perché parte 15 minuti di ritardo la partita per un nebbione degno della migliore Romagna, dove sto io, in realtà oggi da noi piove e quindi andiamo a vedere cosa è successo in questa partita dove Catanzaro ha la meglio sul Bari io obiettivamente non pensavo che il Catanzaro potesse vincere col Bari, ma non perché assolutamente sapete quante volte quando parlo del Catanzaro ne parlo bene però non lo so, io sono convinto che Iachini non ha ancora trovato il bandolo della matassa di questo Bari perché per me il Bari ce la può fare ad aggiungere il playoff, ma andiamo appunto con ordine non più vi avevi salutato, vi iscrivetevi al capire, mettete un piaccio, continuate a commentare questo è un canale che parla di Serie A, di Serie B, di calcio mercato, quando c'è il calcio mercato di nazionale, di Atalanta tanto, visto che ti fa Atalanta, ma parla anche di tutto il resto quindi ci sono i recap di Serie A, recap di Serie B, quindi vi aspetto andiamo appunto a vedere un Catanzaro che fa suo alla partita, diciamo così, giocando un primo tempo ottimo e un secondo un po' più remissivo o di attesa, comunque con un Bari secondo me molto migliore nella ripresa perché nel primo non fa tanto. Appunto 15 minuti di ritardo causa nebbia, ma pronti via al primo 50 secondi, primo minuto occasionissima per l'Ulic del Bari, ma è bravissimo appunto fu lignati a neutralizzare con la gamba un'occasione d'oro subito appena pronti via ma ancora pronti via appunto al quarto minuto nella nebbia sbucca il gioiello il gioiello van de putte, questo ragazzi ne sentiremo parlare, secondo me è un giocatore da Serie A, già pronto per la Serie A, poi bisogna vedere se non va all'estero speriamo di no, perché mi piacerebbe vederlo appunto in Serie A, cosa può fare segna un gran gol di punizione, da punizione scusate, davvero una traiettoria imprendibile ma bello 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 per Brenno, ma veramente un bel gol in una nebbia così, complimenti veramente a appunto van de putte. Iemmelo trova davvero tanto spazio, al nono minuto complice all'intervento di Brenno colpisce il palo, è proprio bravo a toccare quel tanto che basta Brenno per far andare la palla sul palo ma è un bel tiro anche quello di Iemmelo appunto che poi si rifarà più avanti ma andiamo appunto con ordine. Un Bari in netta difficoltà per almeno 15-18 minuti dove fa veramente poco, a parte quel tiro subito al primo minuto ma al ventesimo Nasti di testa va vicino alla rete e direi che queste sono le due cose da segnalare del Bari perché poi sì c'è un colpo sopra la traversa però sono le uniche occasioni diciamo oltre a quella appunto di lui c'era l'inizio dei galletti nel primo tempo, per il resto fa veramente poco o nulla nel primo tempo il Bari. Poi c'è un'altra bellissima azione costruita dal basso, dal Catanzaro, veramente questi quando partono palla al piede, pochi passaggi, pochi tiri, cioè poche pippe, non volevo usare la parola brutta però la uso, gran palla appunto costruzione dal basso, gran palla di Ambrosino d'esterno per Sunas che però per sua sfortuna non riesce a trovare lo specchio della porta, inquadrare lo specchio della porta. Finisce così in primo tempo comunque sia con un Catanzaro nettamente superiore al Bari mi sento di dirlo invece è una ripresa dove il Bari fa di più, non fa chissà che, dopo andiamo a vedere poi tutti i dati statistici della partita perché sono comunque importanti da leggere in chiave il risultato finale, com'è finita eccetera. E al secondo tempo con Puccino che su punizione più o meno uguale a quella di Van de Putte, al gol di Van de Putte però spara alto sopra la traversa, più o meno la posizione è la stessa, senza nebbia però perché poi la nebbia sparisce, ogni tanto torna ma poi sparisce. Ancora Bari con Ricci che spara alto ma secondo me ci poteva essere un rigore in questa occasione perché lo fanno vedere solo mezza volta ma c'è un fallo a mezzo aria, adesso non mi ricordo su un asti o su chi, vi chiedo scusa perché non me lo sono segnato nei miei appunti, però c'è un contatto un po' sospettino secondo me, poi ce n'è un altro dopo nell'altra area, pareggiano un po' le cose, però ecco appunto non viene neanche visto il VAR, protesta un po' Nasti ma poca roba. Insiste il Bari ma Fulignati risponde Sibilli, Fulignati bravo anche oggi quando è stato chiamato in causa, Di Cesare colpisce la traversa con Fulignati immobile, veramente un bel tiro quello di Di Cesare che si muove veramente bene in aria, poi sgancia questo tiro ma appunto va sulla traversa con Fulignati che secondo me non aveva potuto farci nulla perché infatti resta anche immobile a guardare la sfera che compisce appunto il legno. In un secondo tempo dove praticamente c'è solo il Bari e arriva il cinico Catanzaro, l'ho chiamato così perché comunque si difende bene Catanzaro, non è che subisce più di tanto, però è vero che un Bari nella ripesa è venuto fuori, si vede che Iachini negli spogliatoi ha sbattuto i pugni e anche abbastanza pesantemente e appunto il secondo tempo che è stato più di marca barese arriva il gol di Iemmello, bravo ad approfittare di un'ingenuità dei biancorossi pugliesi appunto nella difesa abbastanza imbarazzante. Tra l'altro decimo gol in 24 partite per Iemmello, attaccante capitano del Catanzaro e arriva al sesto risultato utile di fila appunto per questo Catanzaro che non finisce più di stupire, un Catanzaro che molti avevano dato per in fase calante fino a due o tre mesi fa quando ha avuto quel periodo un po' di calo, obiettivamente l'ha avuto però che si sta tenendo stretto con le unghie e con i denti in questo posto playoff allungando anche e rimanendo comunque saldo visto i risultati di stasera che adesso andiamo anche a vedere, gli altri risultati ve li dico, ma appunto prima volevo dirvi questa cosa qua, questi sono i dati della partita, 62% di possesso palla del Bari, mentre nel primo tempo era tutto di marca catanzarese, ok, si è proprio invertito, poi va bene lasciano il tempo che trovano perché poi ogni sito dice il suo, però comunque si è 7 tiri totali del Catanzaro, 20 del Bari, ok, di cui 4 nello specchio per parte, 13 tiri fuori del Bari e 2 tiri fuori appunto del Catanzaro, un tiro bloccato del Catanzaro e 3 appunto del Bari, ci tenevo a dirlo questo perché comunque il Bari l'ha tirata, le occasioni, i tiri li ha fatti, però non c'entrava lo specchio cioè a parte quelle 4 appunto che ho detto, e la classifica adesso ci dice che il Catanzaro appunto è in sesta posizione, ha 45 punti, il Bari in undicesima con 33 punti, quindi ben 12 lunghezze di vantaggio delle due appunto formazioni, tra le due formazioni, poi ovviamente ci sono le partite in meno perché domani qualcuno va a recuperare quello che volete, domenica 3 marzo c'è Cosenza Catanzaro, già tutto esaurito, andiamo appunto a vedere i risultati di questi primi anticipi appunto del turno in fase settimanale che vedono Ascoli Brescia a finire sul 1-1, Reggiana sul Tirol stesso punteggio 1-1, buon punto per il sul Tirol, buon punto per l'Ascoli comunque contro due squadre che lottano per i play-off, Catanzaro Bari appunto 2-0, Lecco Como netta vittoria del Como 3-0 nel derby del Lago, 0-3 appunto, Palermo-Ternana, roccambolesco successo dalla Ternana, 3-2 è imprevisto in quel di Palermo appunto, battuta dal resto per gli uomini di Corini, ma mi fermo qui perché io do sempre la colpa a Corini, ma non avendo visto la partita non posso saperlo, quindi devo recuperarla per poi il recap di giovedì portarvelo e vi dirò tutto quello che penso, Palma-Cosenza 1-1, Cosenza riesce a fermare appunto il Palma in casa, tra l'altro Palma in 10, ottimo veramente il punto del Cosenza e poi la Cremonese che vince 2-1 in quel di Marassi contro la Sampdoria, ottimo successo appunto anche questo per la Cremonese. Ragazzi come sempre vi invito a iscriverti al Campania, metti il piacere, commentare, ci vediamo al prossimo video, se siete arrivati fino alla fine, hashtag della fine, aquile, perché comunque le aquile giollo rosse del Catanzaro ci sono arrivate. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, il vostro monta, mi raccomando recuperate il recap di serie A, recap di serie B e tutte cose, quello che volete, tanti like, tanti commenti, rispondo a tutti domani perché adesso vado a letto, questa mattina lavoro, vi abbraccio, ciao ciao!